Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto, oggi vi vado a far vedere perché bisogna andare a sostituire il volano doppia massa anche su un cambio automatico DSG come questa Passat quando fa rumore, di solito quando fa rumore, quando la vettura ha il minimo, quando si inserisce la prima marcia sentiamo un senso di sballottamento all'interno del cambio adesso vi faremo vedere, fai un po' muovere, guardate, vedete che gioco ha? Ecco, perché per collegare il cambio al motore c'è bisogno di questa giunzione che è data dal volano a doppia massa che serve a togliere le vibrazioni fra motore e cambio, ok? Quindi cosa succede? Che se questo volano si è consumato dentro e vibra noi andremo a usurare l'albero del cambio qua, infatti vedete che aveva già fatto uno sfrido di ruggine dappertutto, lo vedete? lo vedete anche qua, vedete? Mi passa una lampadina a favore? Adesso vi faccio vedere bene dentro questo ingranaggio che è già tutto consumato quindi cosa succede? Vedete? Tutta questa ruggine arriva da qua, vedete che i dentini sono tutti, vedete che i denti sono già tutti piegati da un verso, lo vedete bene? Ok? Ecco, perché questo volano ha preso del gioco e quindi cosa succede? Che se noi lo teniamo così andiamo a consumare l'albero del cambio e poi dovremo andare a cambiare l'albero del cambio DSG e questa è veramente una spesa enorme. Quindi quando sentite al minimo questo volano che sballotta, che si muove, bisogna andare a fare questo intervento a cambiare il volano a doppia massa che serve da giunzione. fra il cambio e il motore. Qua abbiamo il volano nuovo da mettere, come potete vedere i denti del volano nuovo sono tutti belli dritti, non sono consumati, vedete? Quindi se avete necessità di fare questo lavoro ci potete chiamare per un preventivo al numero 0141 96 92 14 o una mail a info-biancoauto.it o un whatsapp al 345 060 86 80. Ricordatevi che se non fate questo lavoro andrete a creare dei gravi danni sull'albero del cambio del DSG. Ciao a tutti e alla prossima.